In Abruzzo siamo a 135 casi, in totale abbiamo notato che sono più di 3.100 migranti che sono dentro i centri. Iacuba Sanagogo, responsabile migranti OSB Abruzzo Molise, parte dai numeri dell'accoglienza. L'incontro di questa mattina invece vuole segnalare e denunciare le condizioni dei migranti e le problematiche riscontrate all'interno dei Cass. Il problema dei problemi a livello nazionale è il superamento e la riforma della Bossi Fini, legge oramai obsoleta come già riconosciuto dallo stesso Fini. C'è poi la situazione abruzzese, comune a tante regioni. Per individuare un percorso integrativo valido occorre la documentazione necessaria. Il rilascio del permesso di soggiorno, il rilascio sempre del C3 che consentisce ai ragazzi di non essere ricattati dai caporali, dai padroni che esistono, perché i ragazzi sono costretti a lavorare, a essere sfruttati sul lavoro. È tutto questo che noi stiamo cercando di mettere stop a questo. Il permesso di soggiorno è che alcuni datori di lavoro, anche perché i commercialisti non sanno come assumere un ragazzo con un C3, che devono avere entro 9-15 giorni. Aspettano più di 8 mesi, più di 6 mesi che aspettano questi documenti. Giuse dentro queste prigioni, io lo chiamo così, quelle che noi chiediamo alla prefettura, anche di tutte le associazioni laiche, religiose e tutte queste, di venire insieme a noi per chiedere al governo italiano di fare una regolizzazione, una sanatoria per tutti. Un'ultima cosa, il costo giornaliero che paga lo Stato per ogni migrante è di 22 euro. C'è stato un netto taglio fino a qualche anno fa, era di 35. Attenzione però, al migrante va un pocket money di appena 2,50 euro. A chi può far comodo una situazione del genere? Per avere tutti questi tempi, a chiudere i ragazzi in questi casi, mi sembra che è comodo a qualcuno, i privati, quelli che c'è, vincere appalti, quelli che, io direi anche il governo che gli conviene avere questa situazione, di avere questa struttura enorme, a chiudere delle persone umane dentro, senza cosa, perché qualcuno ci guadagna.